Musica 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 Onze Nonze Sta parlando Sta mandando cosa sta mandando Il mio dice non ti edda Non ti edda Non ti edda Non ti edda Le orecchine della mia mamma l'Olli Ah si Mi tocca le orecchine Ragazzi Li lasco meno Che ho detto? Le mangiamo. Che ti mangi le orecchini? Me li mangio, così mi piacciono tanto che io te le mangerei. Non, 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 non. Tu mangi che, dai, non, 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 ma, non. Non, 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 non. Ok. Viva l'argo. Paola, il maio. Io non ho guarda, non ho guardare. Già, guai, sei. Se tirano la roccia, tu non ho guarda qui, ai? Non ci posso parlare, non ci posso parlare, non è che si può apparare. No, ma io subito l'ho detto, quando sono girata a casa, l'ho detto, lei ci non mi lascia. Ci vedo, grazie. 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 Grazie.